Giorgio Mastrota in tv, anche, un passato da tronista. Ecco come andò in base alle parole dello stesso re delle televendite. Mastrota nel 2003 fu tronista a Uomini e donne. Avevo due spazi di televendita dentro al programma, ricorda al settimanale Oggi, Pentole e Materassi. Registravo nello studio di fianco, un giorno Maria De Filippi venne a trovarmi e mi disse visto che sei qui, perché non fai il tronista? Ero single, lo feci per un mese. Ma non andò bene, avevo scelto una ragazza carina, mi ero anche ingolosito, mi piaceva davvero. Alla fine scoprì che era fidanzata, che stava lì per promovesi. Insomma, fu un fallimento. Mastrota rivendica con orgoglio di essere rimasto vergine dai reality show, dal GF VIP all'isola dei famosi me li hanno offerti tutti. Ma, con tutto il rispetto, non è il mio genere. E poi chi mi dice che, se sparisco per tre mesi, non trovano qualcun altro che vende i materassi al posto mio? E rivela, a dir la verità, Pechino Express l'avevo accettato. Era tutto pronto, sarei partito in coppia con mia figlia Natalia. Ma lei era minorenne e la mia ex moglie, Natalia Senior, si oppose. Mastrota è sposato con Floriberta Gutierrez, da cui ha avuto Leonardo, che ha un mese e mezzo. Gli altri figli sono Federico di 17 anni, la mamma è la modella brasiliana Carolina Barbosa, Matilde di 4 e Natalia di 22, la madre è Natalia Estrada, che è al quinto mese di gravidanza, il piccolo nascerà a giugno e avrà un nome himalaiano, e vive a Cemonix col compagno.